Musica 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 Ok buongiorno ragazzi Siamo ad Ankara Focus, focus, focus Ok siamo ad Ankara Non piove, fa brutto tempo Siamo nella parte vecchia della città Mercatino, Moschera Qui Stiamo girando per fare un po' di riprese Per il documentario Ma anche per rilassarci un po' Abbiamo dormito dopo un viaggio di 28 ore Guardate il vlog di ieri Se volete sapere bene le cose Ed ieri l'altro E niente Ieri abbiamo girato tre interviste Super soddisfatto Super emozionante Veramente notevole Notevole quello che tireremo fuori E niente Oggi continueremo A fare qualche intervista Con Daniel e Giulia Che sono questi due qua Che ci ospitano Yeah sono appena entrati Ma anche riprenderemo Riprenderemo un po' di riprese all'interno Della scuola dove lavorano Sempre B-roll 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 Bene Io vado a comprare collanine Ciao E' una pietra vulcanica E' una pietra vulcanica E' una pietra vulcanica E' una pietra vulcanica Ancora fuso il giallo Perché c'è un maione E che c'è un maione Ci sterebbe benissimo Quello è lancione Ciao 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 Siamo un po' il signore degli anelli Con questo mantello Ok ragazzi Siamo in cima Alla fortezza Guardate che roba Ci va da andare Non c'è parapetto Non c'è niente E' pazzia pura Però bellissimo Siamo stati a scuola Siamo tornati a scuola No scherzo Fino a un secondo fa Nevicava a fiocchi Io non sapevo Non sapevamo Ma Ankara praticamente E' a un migliaio di metri Quindi Come essere in montagna E prima eravamo dentro A scuola A girare un po' Di video per il documentario E veniva giù Ma neve 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 Infatti fa abbastanza freddo Adesso E' tornato a piovere Per oggi missione compiuta Siamo stati in cima Alla città Abbiamo lavorato un paio di ore Anche tre facciamo A scuola Peccato per il tempo Perché volevo volare col drone Ma lo faremo lunedì O domani Non lo so Dipende dal tempo Se esce una bella giornata Appena esce una bella giornata Facciamo un bella A proposito Questa che vedete dietro di me E' la scuola Oasis International School Dove Giulia e Daniel lavorano E dove stiamo girando anche I documentari Adesso Ragazzi non ci crederete Ma ho perso Le schede Tutte le SD Non riesco a trovarle Quindi sono Con una sola SD da 64 giga Per la Blackmagic Poca Cinema Camera Che vuol dire 45 minuti di girato Dopodiché Devo cambiare scheda E non ne ho altre Quindi devo scaricare la scheda Insomma Un gran casino Adesso vediamo Spero di riuscire a trovarle Se non mi tocca Comprare un'altra scheda Via A dopo Qua si fa sul serio Ragazzi Domani lasagne Anche se siamo in Turchia Dov'è la luce Cioè qua Non si scherza Ma lasagne Lasagne Cioè Pazia pura Sì Pazia